Guardate che ragno gigante che sta fuori dal balcone noi stiamo in alto, al quinto piano da dove è venuto? Da sotto ha fatto cinque piani il salito se viene dal terreno ha fatto cinque piani guardate, adesso si sta muovendo io adesso lo prendo e lo butto di sotto al balcone di quello di sotto guardate quanto è lento simpatico però sembra quello del signore degli anelli vi ricordate? il signore degli anelli com'è che si chiamava? non mi ricordo niente guardate come cammina forte a me mi fanno un po' impressione i ragni però però è forte dispiace di ucciderlo non posso ucciderlo dai, peccato